Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Iperbole e oggi risponderò ad una delle domande più ricorrenti sotto i miei video, ovvero come faccio a fare i crediti. Io gioco su computer, dove fare crediti è molto più difficile rispetto alle altre console, perché il mercato è praticamente inesistente. Però ci sono comunque dei piccoli trucchetti che utilizzo da FIFA 17 ormai per fare parecchi crediti. Sono piccole cose che non vi faranno guadagnare cifre esorbitanti da un momento all'altro, però sommate, durante un anno alla fine vi fanno fare parecchi crediti. Il metodo di cui voglio parlare oggi probabilmente è utilizzato da tantissimi giocatori, quindi non sarà niente di nuovo per molti di voi, però magari qualcuno non ne ha conoscenza. Oggi vi voglio parlare delle sfide creazioni rosa degli incontri principali. Ogni giovedì, infatti, su FIFA vengono rilasciate quattro sfide creazioni rosa che riguardano le partite più importanti della settimana. Adesso che c'è la pausa del coronavirus sono sfide prese a caso dalla EA, ma solitamente sono le partite più interessanti della settimana in tutto il mondo. Queste sfide vi danno dei buoni pacchetti e se riuscite a farle utilizzando soltanto giocatori non scambiabili il profitto sarà evidente. Oggi, per esempio, sono uscite queste quattro sfide che vedete in grafica. Io sono riuscito a farle tutte e quattro senza non dover comprare nemmeno un giocatore. I metodi per guadagnare da queste sfide creazioni rosa sono due. Il primo è completando le sfide, che ovviamente ci danno dei pacchetti. Se non paghiamo i giocatori che utilizziamo ma sono non scambiabili, otteniamo un profitto dai pacchetti. Il secondo metodo è quello di vendere i giocatori richiesti nelle sfide. Per esempio, oggi stanno richiedendo dei giocatori di Barcellona e Valencia. Se noi abbiamo nel club più di un giocatore di Barcellona e Valencia, uno lo utilizziamo per fare la sfida e gli altri li possiamo vendere a cifre più alte del rispetto al normale. Come potete vedere, io ho fatto tutte le sfide utilizzando giocatori non scambiabili e nei pacchetti non mi è andata troppo male. Non ho avuto molta fortuna, però comunque, avendole pagate zero, ho comunque fatto i miei 30-35 mila crediti di profitto. Non mi posso lamentare. Considerate che questa è una cosa che succede ogni settimana, perché ogni giovedì alle 17 rilasciano queste sfide, quindi sono sempre crediti che si sommano di settimana in settimana. Il consiglio che vi posso dare per farle pagando il meno possibile è ogni tanto, dalle division rivals, di prendere i pacchetti non scambiabili. Prendendo i pacchetti non scambiabili avremo tantissimi giocatori nel club non scambiabili che ci torneranno molto utili quando dovremo fare queste sfide. Infatti io, tutti i giovedì, faccio le sfide senza pagarle. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti i De Perbole e al prossimo video!